229 Per la gioventù ci vuole aria, aria, aria. Esigenze di Leonardo Roma, 12 marzo 1952 Carissimo fr. Raffaele e Giuseppe L'altro ieri è venuto a trovarci a casa il revenendo padre Priore e padre Alessandro, figura della nostra gioia. Ci ha raccontato dell'accademia, del tuo lavoro su Ettore ed Andromeca, delle feste vostre per il carnevale. Ci ha detto che prima hai fatto l'infermiere e poi ti sei ammalato con influenza anche tu. L'influenza è una malattia leggera, bisogna però avere molta caputela perché le ricadute sono molto facili. Se hai bisogno di medicine, faccelo sapere. Io consiglierei di prendere, dopo passata la febbre, le Pamoxil, che è un ricostituente a base di fegato di cavallo che ha un'azione rapida e ti rimette subito in forze. Ciò perché l'influenza si cura con i sulfamitici, i quali indeboliscono molto l'organismo. Le Pamoxil si vende in bottiglie sfuso ed a fiale in scatole di sei fiale l'una. Io l'ho preso sempre a fiale e mi ha fatto bene. Spero che quando ti sarà giunta questa lettera tu sarai già guarito. Comunque, non mi far mancare tue notizie. Ho ringraziato Padre Alessandro per aver portato lo scapolare e ringrazio anche te per averlo confezionato. Ho aggiunto l'elemosina per qualche santa messa per mamma che ho dato al Padre Priore. Desidero di venirti a fare una visitina, ma non so quando potrò soddisfare questo desiderio. Qui nessun'altra novità oltre quelle che ti ho già scritto con le precedenti del 7 e del 29 febbraio ultimo. Leonardo dice sempre anche lui che vuole venire da te, ma c'è quel terminillo e gli sci, speriamo che non si faccia male, poi è molto occupato per gli studi, poi a Caprarola gli si affacciano alla mente certi ricordi muri ebri. Basta. Poi ha sentito Padre Lombardi che attraverso la radio gridava che per la gioventù ci vuole aria, aria, aria e lui ha accolto questa esortazione con ardore applicandola al terminillo. Al Demerode, che è la scuola dove va Francesco, hanno nominato Leonardo presidente dell'Unione Missionaria fra gli studenti. Ringrazio il molto reverendo Padre Priore per tutte le cure che ha per te. Augura ottima salute e ottima riuscita dell'operazione a Padre Bonifacio. Ringrazio anche, a mio nome, tutti quelli che ti curano. A te auguri di prossima guarigione e la santa benedizione da Papà.